Pizzeria o Miracolo, prima pizzeria gourmet a Salerno. Solo prodotti DOP e i presidi Slow Food. Fior di latte di Agerola, farina petra composta da grani 100% italiani lavorati con macina a pietra. Impasti con lievitazione naturale a partire da 36 ore. I migliori pomodori, San Marzano DOP e Piennolo del Vesuvio. Aperto solo di sera.